il Madridale, il Madridale, il campeone siamo noi, siamo noi, siamo noi oggi siamo noi 3-0 e si va a dimostrare che siamo i migliori, siamo i Reis d'Europa e oggi che sensazione è deve vincere la Junta, per forza quante finali abbiamo perso in tutti questi anni? vinciamo o no questa finale? vinciamo o no questa finale? vinciamo un anno fa? sì, ero qua, ero qua con il Barcellona, Berlino cosa pensi, che risultato ha fatto? io spero che vada diversamente quest'anno perché vamos a ganar vamos a fare historia otra vez, come quasi tutte le finali che fuga ma il Madrid sempre gana e spero che gane contro la Juve eh, penso tutto il bene possibile di sto mondo, deve vincere per forza quale è il suo pronostico? il suo pronostico? 2-0 scusa golli di chi? iguaine di bala senta, lei qui siamo in mezzo a tanti giovani come si sente di questa cosa? felicissima, perché non sono mai venuta è la prima volta che vengo e mi sono trovata veramente e poi è una cosa diversa dal solito guardi, anche se sono vecchia ma mi piace lo stesso, mi piace tanto anche ecchi di ronco ora poi è che vabbiamo a ganare la dose è nostra hai che fare storia solo per questo vabbiamo a ganare ecchi di ronco ecchi di ronco